Un saluto dal Tg della mobilità. È in corso la settimana europea della mobilità. Il tema di quest'anno è muoviti sostenibile e in salute. Tra gli eventi in calendario domani c'è la Roma Fancy Woman Bike Ride. In diverse città del mondo le donne si uniscono per chiedere visibilità, per divertirsi e per ispirare altre donne a scegliere come mezzo di trasporto la bicicletta. La partenza è prevista alle 17 da Piazza di Spagna. Mercoledì 22 settembre invece a partire dalle 10.30 nella Sala di Ingegneria dell'Università Roma 3 in via Vito Volterra 62 è in programma una tavola rotonda sulla mobilità smart nella ripartenza del paese. Tutti i dettagli sul sito romamobilita.it